Via Libera l'osservatorio sull'ospedale di Ariane Erpino per vigilare attentamente sulle inadempienze e soprattutto sugli impegni presi dall'ASL alla luce delle recenti rassicurazioni del direttore generale Sergio Florio. È proprio per questo che le associazioni del territorio di qualsiasi indirizzo hanno organizzato un incontro al Palazzo degli Uffici di Ariano per discutere della questione. Sentiamo una sintesi. La questione dell'ospedale resta una questione prioritaria per quanto ci riguarda, non solo noi, ma riguarda tutta la popolazione arianese. Abbiamo letto quelle che sono le direttive che l'ingegnere Florio ha pubblicato sul sito dell'ASL, per cui le stiamo analizzando e le stiamo valutando. Logicamente la nostra attenzione è alta perché vogliamo capire se si tratta di una razionalizzazione o di un razionamento, nel senso che i servizi devono essere mantenuti a tutti i costi e chiaramente anche migliorati, ma questo non può avvenire se non c'è un adeguamento del personale sia medico che paramedico per quanto riguarda le singole strutture. Cioè senza il personale non è possibile tenere aperto un ospedale. Quali saranno i prossimi passi che faranno le associazioni? Si andrà alla Regione Campania se sarà necessario, si parteciperà a questo incontro che è previsto a breve e dopodiché faremo le nostre valutazioni. Un lavoro a tutto campo, quello delle associazioni, sulla problematica. Intanto il Presidente del Consiglio Comunale Facente Funzione, Giovanni Lavita, commenta così lo stato di avanzamento dei lavori. Innanzitutto ci fa piacere che ci siano queste iniziative di coinvolgimento dell'Ubillone Pubblica perché il tema è delicato e assolutamente non è in via di risoluzione. Ci mancherebbe altro. Florio ha detto delle cose in un incontro che è stato richiesto dal Comitato di Tutelare del Territorio. Ovviamente questo documento, grazie anche all'emittente Canale 58, sta a disposizione della Prefettura e di qui a breve ci sarà un incontro, un tavolo tecnico vero e proprio davanti al Prefetto, nel corso del quale l'ingegnere Florio dovrà dare conto di quello che già ha detto in questa riunione e soprattutto dovrà dare delle rassicurazioni ben più concrete, tenendo conto che siamo alla vigilia ormai dell'adozione dell'atto aziendale. La cosa positiva è questa che ci viene confermata, il confronto che lui vuole avere e sul quale abbiamo motivo di non dubitare sul contenuto dell'atto aziendale. È lì che ci dovremo presentare, preparati a dovere, come si suol dire, per dare la nostra chiave di lettura alla problematica sanitaria sul territorio. Grazie. 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 Grazie.